ciao a tutti ragazzi da Michele benvenuti nel mio canale grazie a tutti voi che vi siete iscritti e grazie a quelli che riterranno giusto per i miei contenuti ritenuti spero interessanti iscriversi grazie ragazzi allora come promesso nel precedente filmato beretta modello 92 fs co2 calibro 4,5 a piombini ragazzi non a sfere d'acciaio a piombini perché alla canna rigata pistola dove come potenza siamo inferiore al 7,5 joule ragazzi però penso che almeno sui 5 4 5 joule ci siamo qua ragazzi questi questa è veramente una pistola molto molto potente molto potente ok ragazzi andiamo adesso ad aprire la scatola subito e vediamo di farvi vedere cosa abbiamo all'interno la scatola chiaramente abbiamo il suo logo qua nulla qui abbiamo il numero di matricola codice matricola calibro modello 92 fs peso ragazzi 1300 grammi pesa più di quella vera posso dirlo perché essendo in possesso di portodarmi ho anche acquistato questa splendida pistola in calibro 9x21 come sapete il calibro 9x19 è un calibro che viene dato solo alle forze dell'ordine ok ragazzi allora passiamo avanti dietro abbiamo lo stesso logo come detto nell'altro filmato ragazzi andatevi a vedere per quello che sono le disposizioni di legge obbligatorie quando si acquistano armi di questo tipo ok ragazzi non ve le sto più a spiegare questo vi dico solo che è un foglio che dovete sempre portare con voi e che vi verrà rilasciato prestampato dal venditore nel momento dell'acquisto la pistola come vedete è chiusa in una custodia che è lo stesso materiale di quella che ho io vera l'unica cosa è che la mia non è stondata però la plastica è molto rigida andiamo ad aprirla eccola qua ragazzi all'interno abbiamo due carichini da otto colpi che io ho già caricato con i piombini perché poi farò una piccola prova a sparo ragazzi ok questi praticamente funzionano come le pistole giocattola a tamburo di una volta e in realtà funzionano come quelle vere anche a tamburo però per capirci quando eravamo bambini molti avranno sicuramente avuto questo tipo di caricatore nella pistola e nei fucili più fortunati diciamo bombolette co2 da 12 grammi qui abbiamo i fogli di controllo per quando viene fatto chiaramente il prodotto ci sono il controllo qualità ok primo controllo 10 allora pistola ragazzi cerco di farla vedere il meglio possibile la pistola è veramente pesante ve l'ho detto 1300 grammi io penso anche se in realtà ho visto un pezzo all'interno che sia interamente in ottone e poi con questa finitura molto bella che però non è identica identica al colore non vuole essere una critica questa ci mancherebbe ragazzi lo dico molto sinceramente ma è un dato di fatto e un po non è proprio conforme all'originale però è molto bella perché l'originale almeno per chi ce l'ha è proprio acciaio per cui però è veramente bella ragazzi allora questo è finto perché perché la pistola non è scarellante la sicura è vera allora prima di tutto controlliamo ragazzi che sia sempre scarica ricordatevelo io all'interno ho solo la bomboletta co2 ve la farò vedere qui è scarica e io ovviamente prima ho passato già uno scovolino all'interno praticamente un per chi non lo sa un attrezzino che si mette all'interno per pulire la canna e la canna è completamente libera ragazzi dovete sempre essere sicuri non puntate mai la pistola verso nessuno ovviamente non non verso voi stessi ci mancherebbe e nemmeno verso gli altri ragazzi neanche per idea dovete pensare una cosa di questo genere va bene ragazzi ok allora torniamo a noi sicura funziona sia con cane abbattuto questo si chiama cane per chi non lo sa ovviamente ragazzi per gli esperti fate finta di non sentire e il grilletto ok cane abbattuto tiriamo su il cane guardate adesso io vedete questo è il percussore come quella vera adesso non vi spiegherò la differenza tra la vera perché è un discorso troppo lungo non voglio annoiarvi con i video troppo lunghi ragazzi come appena detto allora questo è un percussore nel momento in cui spariamo ovviamente batte e libera pressione con un pistone che ha tenuta con le or libera pressione nella canna che spinge il pallino attraverso se noi facciamo così ovvio che se andiamo a sparare non succede nulla io vi sconsiglio ragazzi di sparare così con questa sicura perché pur essendo metallo sono comunque dei metalli che non sono paragonali all'acciaio vedete qui c'è già il segno del percussore un po' però si ferma lì ovviamente però vi sconsiglio di giocarci con la sicura inserita giocarci inteso premere il grilletto ragazzi perché giocarci con questa potete solo fare il tiro al bersaglio allora le diamo la sicura andiamo a vedere all'interno qui lo sgancio caricatore in realtà e l'apertura adesso salta guardate perché non la tengo vedete e l'apertura qui abbiamo due molle di ferro di acciaio questi acciaio che vanno poi ad attaccarsi qua semplicemente quando andiamo a premere si alza vedete questo si alza e fa saltare la guanciale di copertura molto belle tra l'altro guardate il logo bellissime poi abbiamo già inserito la bomboletta eh ragazzi in questo caso funziona così vi dico se fosse scarica questo si apre si apre una volta scarica lo potete fare si svita la vite in ottone qua che permette poi alla bomboletta vuota di essere estratta per capirci così così è piena e questa è quella che esausta già vedete il foro ok una volta poi che inseriamo la bomboletta nuova andiamo semplicemente imbattuta senza esagerare con questa questo pezzo qua nero che vedete il fondello sarà alzato così sarà alzato così e poi andremo a premere tac e a chiudere e sarà pronto allo sparo ok adesso chiudiamo tutto come funziona ragazzi semplicemente tirate giù questo allora potete anche potete anche evitare di farla battere cioè potete guardate se tiro giù qua cosa succede vedete si apre però da un colpo molto forte io allora faccio generalmente così anzi sempre tengo e lo faccio avvicinare da solo alla molla ok poi si prende questo e si inserisce all'interno prima di fare questo mettiamo comunque l'arma insicura il dito fuori dal grilletto ragazzi sempre sempre eh ragazzi sempre inseriamo dentro e chiudiamo ok in questo caso l'arma se tiro su è pronta a sparare ok adesso andiamo un momento a levare questo ragazzi ok tiriamo su e adesso vi faccio vedere lo smontaggio però prima di farvi vedere lo smontaggio ci tenevo a farvela vedere tutta allora vediamo se devo vediamo e proviamo a fare una cosa vediamo se devo il flash cosa succede se ce la facciamo non ce la facciamo no e va bene cercavo di togliere il flash perché forse riuscivo a farvi vedere anche la canna rigata poi ma non voglio fare pasticci perché poi mi toccherà rifare tutto il video ok allora ragazzi guardate levo un momento questa così col fondo forse bianco vedete meglio guardate che spettacolo questa pistola il vivo di volata cosa si chiama vivo di volata questa è la canna guardiamo delle scritte pietro beretta gardone valtrompia modello 92 s calibro 177 che è uguale al 4,5 del nostro calibro ok poi la giriamo al contrario dall'altra parte e abbiamo altre sigle vedete marco registrato beretta è fatta in germania made in germany by humarex ok allora guardiamola anche di qua guardate queste righe come in quella vera bellissime bellissima arma ragazzi allora facciamo così prima dello smontaggio vi faccio vedere una prova a sparo molto semplice ragazzi sempre gli occhiali ragazzi sempre gli occhiali e ragazzi sempre gli occhiali prima di fare queste cose allora dito lontano dal grilletto sul castello inseriamo dentro il carichino da otto colpi chiudiamo possiamo allora questa è doppia azione quindi posso tirare su il cane armare quindi il cane e premere il grilletto e lei parte cioè spara oppure posso sparare direttamente così ok ragazzi in doppia azione allora primo colpo adesso per sparare ragazzi io ho messo tanti giornali delle stampe con dietro un legno molto spesso ok allora sentite questo è il primo oppure tiro su sempre il dito fuori dal grilletto ragazzi arma sempre puntata al bersaglio ok tiro su e poi quando sono pronto sparo ok adesso andiamo a levare tutto ok vedete sono partiti due ovviamente quindi la canna è libera siamo sicuri dove ho sparato ragazzi è solo per farvi vedere una prova e ragazzi non ho la possibilità per adesso di avere un'area dove farvi vedere come si spara a distanza diciamo più non so una distanza di 5 10 metri perché non saprei nemmeno ancora oggi fare il montaggio comunque guardate questo è un giornale della stampa lo ha passato tutto andiamo a prenderne un altro guardate lo ha passato tutto aspettate dove sono qua vedete ok andiamo a prenderne un altro questo l'ha passato fino a circa metà andiamo a vedere i piombini vedete il piombino si è schiacciato ovviamente perché non è d'acciaio perché in queste armi ragazzi non si può sparare assolutamente il pallino d'acciaio perché il pallino d'acciaio da 4,5 non passerebbe tra le righe destrorse della canna perché questa canna è una canna rigata ok ho detto prima ok ragazzi allora adesso andiamo a fare lo smontaggio molto semplice guardate chiudiamo ah vi consiglio per chi ha quest'arma per carità sono mole d'acciaio non patiscono però quando la riponete riponetela così nella custodia così non tenete in compressione la molla ok quindi fate questo lavoro qui andiamo semplicemente a smontare andiamo a svitare questa vite qua sotto ok va svitata tutta a questo punto a questo punto teniamo la mano davanti al gruppo canna ragazzi al castello chiedo scusa al carrello facciamo questo lavoro qua se lasciamo l'essa gancia vedete allora dobbiamo tenere premuto e sfilarla tenendo la molla così ecco qua questa è la molla adesso guardiamo un attimo questo il castello pesantissimo ragazzi d'altronde pesa 1300 grammi tutto ma per poterlo sfilare bisogna far scorrere la rondella fuori da questa sede qua se no non passa e tirare via questo ok mettiamolo qui questo intendevo vedete se non fate questo lavoro qui lui non esce facilmente o forse non esce neanche questo è il gruppo aria vedete quello che puoi spingere nella canna l'aria per poter sparare è una pistola molto 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 bella è fatta molto bene tanto pesante ragazzi ve lo dico l'attacca di mira è regolabile è regolabile soltanto in deriva ragazzi non in altezza d'altronde non sono quelle pistole da gara ok vedete questa è proprio una bella bella pistola canna gruppo canna guardate la canna purtroppo non riesco a farvi vedere le righe destrorse ci sono le righe all'interno della canna come in quella vera non ce la faccio scusatemi ragazzi ma non riesco vediamo così chissà se le vedete un po' le righe guardate le vedete aspettate eccole lì guardate questa è la canna rigata perfetto molto bella ragazzi bellissima mirino chiaramente fisso ci mancherebbe per rimontare semplicemente la cosa inversa prendiamo il castello inseriamo la parte a mezzaluna sulla parte bassa ovviamente come mezzaluna anche qui mettiamo questa all'interno facciamo uscire la rondella non dal perno ma dalla sede la facciamo rientrare così vedete perfetto poi mettiamo la molla all'interno prendiamo il gruppo della canna il carrello lo inseriamo direzioniamo la molla nella sua sede qui con il dito premiamo questo ecco qua e lo facciamo andare ad agganciare perfetto a questo punto andiamo semplicemente a rimettere la nostra bella vite quella che ci garantirà nel momento in cui premeremo per caricare il carichino da otto colpi ci garantirà che non viene spinto fuori il carrello ecco qua ragazzi bellissima che altro posso dirvi di quest'arma che non vi ho ancora detto sto pensando ragazzi scusatemi ah ecco se non la usate per tanto tempo ma questo vale per tutte per tutte le armi vi conviene consumare la co2 all'interno e lasciarla libera io sparo diverse volte al bersaglio e quindi insomma la tengo la tengo inserita guardate che bella ok mi sembra che possa chiudere qua la pistola non c'è altro da dire carichini ve l'ho detto vi danno delle brugole per poter appunto bloccare il mirino e chiedo scusa la tacca di mira e l'altra più piccola ah ecco cosa non vi ho fatto vedere arrivo 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 vi ho fatto vedere allora innanzitutto questa è quella più piccola che vi danno ok la brugola e poi all'interno chiaramente vi danno il manuale delle istruzioni ok guardate senza che ve lo spiego ve lo inquadro però insomma qua fa vedere ovviamente la posizione della sicura come si inserisce la bomboletta come caricare la pistola come scaricare la pistola come mirare e sparare in sicurezza doppia azione singola azione ragazzi non vi mettete mai in testa ragazzi che questo sia un giocattolo quest'arma non è un giocattolo ci vuole coscienza nell'usarla intelligenza e attenzione ragazzi attenzione bellissima arma per giocare al tiro al bersaglio ma al bersaglio ok ragazzi non pensate minimamente di portarvela in macchina che ne so dentro l'abitacolo ad esempio no questa arma si porta nel baulo nel cofano della macchina senza il caricatore inserito assolutamente e ovviamente se andate a sparare in qualche posto da giustificare che andate a sparare non è che ve la potete portare addosso ragazzi lì va bene però non addosso ok ragazzi non è che fate come tex wheel e ve la mettete di fianco alla coscia vabbè dai ragazzi ma è meglio dirlo per quelli che magari pensano di poter fare i furbi ragazzi se vi beccano pagherete le conseguenze quello che prevede la legge italiana ok ragazzi queste armi sono fatte per divertirsi non per strafare nulla in nulla bisognerebbe strafare ok ragazzi va bene continuo a far vedere il tutto dati tecnici vedete così ve li leggete se avete piacere qui abbiamo tutto quello che sono i pezzi di ricambio nel momento in cui doveste rompere un pezzo e chiederne appunto la sostituzione alla beretta vi danno sia i codici chiaramente che il nome qui abbiamo l'esploso dell'arma vi garantisco che è molto più complesso di un'arma vera perché qui bisogna cercare di non bisogna cercare hanno dovuto studiare come recuperare l'aria che non è per poter appunto agire poi sia sulla CO2 che su un pistone che deve rilasciare la giusta quantità d'aria per essere appunto nei termini previsti della legge non superare insomma i 7,5 joule ok ragazzi guardate qua ci sono degli accessori insomma che se uno volesse può metterli ma insomma ritengo che siano soltanto come immagine ecco come abbellire un po' il modello per carità però per il resto non penso che servano più di tanto e qui vi danno un po' di indicazioni sui versagli che potete prendere per il tirassegno e i diversi tipi di pallini che ci sono il diavolo il diavolo il diavolo ok ragazzi Umarex e basta tutto qua ecco qui ragazzi il video termina qui grazie della vostra attenzione qua cosa abbiamo abbiamo un pezzo della carta che è stata bucata comunque per capirci ragazzi quasi tre stampe quasi tre stampe era un po' scarica la bomboletta non so dirvi quanti colpi ho sparato però era un po' scarica ragazzi però quasi tre di questi giornali li ha passati da parte a parte non è cosa da poco ragazzi ve lo garantisco comunque tornando a noi ragazzi grazie della vostra attenzione grazie se deciderete di aiutarmi nel mio progetto e quindi se vi iscriverete e altresì grazie ancora di più se attiverete la campanella per rimanere sempre aggiornati ragazzi ho tante idee in testa ve lo garantisco successivamente nella playlist vi anticipo che metterò modellini in scala 1-18 della CMC sono dei modelli stupendi per chi ama questi modelli di macchina andate a vederli CMC model car ragazzi bellissime quelle macchine ci sono anche i camion ovviamente poi farò un'altra playlist anche di robot oltre a Ironman montaggio e soprattutto modifiche di funzionalità che troverete sempre nella mia playlist lo so ragazzi non c'entra con il discorso armi ma molti non sanno cos'è una playlist è un canale dove chi appunto lo apre può mettere diverse diversi oggetti come illustrare diversi oggetti ok presentare diversi oggetti oltre chiaramente in questo caso abbiamo la pistola sulla playlist posso mettere le macchine posso mettere modellini di altro tipo ok ragazzi quindi la playlist a quello serve volevo solo dirvi questo grazie ancora a tutti ragazze e ragazzi grazie infinitamente del vostro tempo vi auguro una serena serata a voi e a tutti i vostri cari più cari ciao ragazzi bellissima bellissima arma bellissimo bellissimo modello ragazzi vabbè il modello lo sappiamo già però io l'avevo già salutato vero sì ciao ragazzi ciao